In pass, resta l'obbligo per il personale scolastico che è il decreto legge del TAR del Lazio, secondo il quale il ricorso del sindacato sarebbe inammissibile, in regione pronti per la campanella con i nodi del personale del trasporto. Tragedia nella serata di ieri a Pordenone, dove durante un parto in casa una nonata è deceduta poco dopo essere venuta alla luce per un arresto cardiaco, inutile la rianimazione e la corsa in ospedale. Un operaio è rimasto affolgorato da una scarica elettrica questa mattina mentre stava lavorando in un'azienda di smesa da decina di anni a Mariano del Friuli, è grave ma non sarebbe pericolo di vita. In Friuli Venezia Giulia è sempre più meta di cicloturisti, da giugno il movimento dei viaggiatori in bicicletta ha segnato sui treni regionali un incremento del 37% rispetto al 2020, in 13.000 hanno scelto treni e due ruote. Friuli Doc si allarga sul territorio, tornano gli astriaci in via Quileia, il Friuli Cornere in Castello, l'aggiunta comunale è anche aumentato dal 50 al 60% lo sconto sulla tariffa, preoccupare il solo pubblico. Buonasera e ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il Tar del Lazio ha dato un primo ok al decreto legge per l'obbligo del Green Pass del personale della scuola, in vista della prima campanella prosegue l'organizzazione della ripresa dell'anno scolastico in Friuli Venezia Giulia, dove il ritorno sui banchi è fissato per il 16 settembre. Una prima indicazione di palese inammissibilità e respingimento della sospensione cautelare urgente, il Tar del Lazio non ha ancora messo una pietra tombale, ma poco via, sui ricorsi contro il decreto legge che impone il Green Pass per il personale scolastico e che prevede il licenziamento a decorrere dal quinto giorno di assenza. La discussione sarà ad ottobre e quindi si va avanti con l'obbligo. Un tassello in più in vista della prima campanella dell'anno, che in FVG suonerà il 16 settembre, e ovviamente fervono i preparativi con l'assessore regionale Alessia Rosolen, che mantiene la consueta cautela. I conti, spiega, si fanno nel momento in cui si parte con l'anno scolastico e si verificano tutte le azioni messe in campo. Noi abbiamo fatto quanto in nostro potere, ci sono ancora dei nodi, ma dipendono dal Governo nazionale. Sul fronte del trasporto pubblico, l'assessore Graziano Pinsimenti ha trovato i 40 mezzi aggiuntivi che servirebbero se restasse in vigore l'attuale norma, che impone un'occupazione massima all'80%. E giovedì è previsto un confronto con il ministro dell'Infrastruttura Enrico Giovannini per le risorse. Per i tamponi la regione vorrebbe arrivare a mille se arrivare al giorno nelle scuole Sentinella e anche lo Stato interverrà, seppur con numeri molto più bassi. Il tampone sarà comunque su base volontaria e solo se autorizzato dai genitori. Il nodo principale è per quello del personale scolastico, qua la competenza è puramente ed esclusivamente dello Stato. Al momento mancano 1700 docenti per i quali il Governo potrebbe fare un contratto part-time per poi renderlo a tempo pieno grazie ai 3 milioni stanziati dalla Giunta regionale. Un tema, aggiunge Rosolenne, è per quello del personale Covid previsto fino al 31 dicembre e che andrebbe prorogato. In questo contesto non manca poi il ragionamento politico dell'assessore che in tempi pre-Covid portava avanti l'obiettivo di una regione con competenza anche sulla scuola. Oggi avremmo avuto una cabina di regia unitaria su tutte le azioni da mettere in campo, tenendo conto di tutte le situazioni. Abbiamo comunque lavorato bene con il personale dell'ufficio scolastico regionale, sempre molto attento e disponibile. Tragedia nella serata di ieri a Pordenone dove durante un parto in casa una neonata è deceduta dopo essere andata in arresto cardiaco. Vani, la rianimazione, la corsa in ospedale. La scelta spontanea di un parto in casa è diventata tragedia per una famiglia di origine straniera di Pordenone. I genitori avevano scelto di dare alla luce la propria bambina tra le mura domestiche assistiti da un'ostetrica, ma qualcosa ieri sera attorno alle 19.30 è andato storto e dopo il parto la piccola è andata in arresto cardiaco. Subito sono stati allertati i soccorsi mentre l'ostetrica ha continuato, fino all'arrivo dei sanitari, a praticare il massaggio cardiaco sul corpicino. La neonata è stata assistita da un'equipe dell'ambulanza e subito intubata, quindi la corsa disperata verso il reparto di pediatria dell'ospedale civile, ma nonostante tutti gli sforzi fatti dai medici, il cuore non ha più ripreso a battere. Ai sanitari non è rimasto che constatarne il decesso comunicandolo agli affranti genitori. Potrebbe ora essere disposta un'autopsia per determinare le cause della morte della neonata. Quella del parto in casa è una pratica assolutamente legale, ma che viene scelta molto raramente. In Italia non ci sono dati precisi, ma si stimano circa 500 parti all'anno a domicilio, lo 0,1% dei circa 450 mila nati all'anno. I rischi però sono legati all'assenza di un'immediata assistenza medica in caso di complicazioni. Resta ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Padova la bambina di 13 mesi rimasta ostionata dall'acqua bollente di una pentola. La prognosi che resta riservata potrebbe tuttavia essere sciolta nei prossimi giorni. È ancora ricoverata in terapia intensiva al centro grandi ustionati dell'azienda ospedale Università di Padova. La bambina di 13 mesi che ieri pomeriggio, accidentalmente avvicinandosi ai fornelli della cucina di casa a un'abitazione di Gorizia, ha afferrato una pentola di acqua bollente che poi l'è finita addosso. La prognosi potrà essere sciolta tra qualche giorno, al momento è riservata. La piccola è in cura nel reparto diretto dal dottor Bruno Azena. La mamma aveva dato subito l'allarme e la piccola, dopo essere stata portata in ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio, è stata trasportata in volo d'urgenza a Padova per la cura di ostioni di primo e di secondo grado. La situazione, spiega il sindaco del capoluogo isontino Rodolfo Ziberna, è fortunatamente meno grave di quanto poteva apparire inizialmente. Ho parlato questa mattina con la mamma, dice il sindaco, che ha tutta la vicinanza della città. La piccola sarà svegliata probabilmente nella giornata di domani. Pare che il visino non sia rimasto ustionato e che siano rimasti coinvolti la parte superiore del tronco e una spalla. Siamo fiduciosi e ci stringiamo alla famiglia, conclude Ziberna. Ci siamo messi a sua completa disposizione per ogni tipo di necessità. Un uomo di 60 anni, titolare di una ditta, è rimasto folgorato questa mattina mentre stava lavorando nello stabilimento della Ittansvenska, dismesso da 10 anni a Mariano del Friuli. Ha toccato accidentalmente i cavi dell'alta tensione. L'equip medica dell'elicottero sanitario lo ha stabilizzato. Cosciente, l'artigiano del posto è stato trasportato in volo al cattinale di Trieste, grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Notizia di pochi minuti fa, cade da una tavola da SAP nell'acqua bassa, pochi metri dalla riva Grado di fronte allo stabilimento della Gita, resta gravemente ferito. Lo hanno soccorso Prime Bagnini e quindi la Capitaneria di Porto dell'Isola del Sole, presente in quel momento per un patogliamento a piedi del litorale, vittima dell'incidente. In acqua un uomo di 50 anni, trasportato con l'elicottero sanitario dell'ospedale Cattinara di Trieste. Ed ora andiamo a vedere i dati dei contagi da Covid-19. Nella giornata di oggi, su 7.851, tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici, sono stati rilevati 99 positività, tra cui 3 migranti e 2 operatori dell'azienda sanitaria di Trieste. Non si registrano decessi, rimangono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva e scendono a 31. Gli ospitalizzati in altri reparti, le persone in isolamento, sono 901. 1. Arriveranno dal Veneto le dosi necessarie per raggiungere l'immunità di gregge contro l'influenza nella prossima stagione. Nei piani del Friuli Venezia Giulia si punta a immunizzare 470 mila soggetti a rischio. La corsa per il vaccino anti-influenzale è partita dal 2020. Dopo lo scoppio della pandemia, la profilassia ha raggiunto livelli che mai in precedenza erano stati toccati, almeno in Friuli Venezia Giulia, dove lo scorso anno si era arrivati all'agoniata a soglia del 70% dell'immunità di gregge tra i soggetti a rischio, dopo anni con percentuali molto basse. Arx, l'azienda zero che si occupa di acquistare il prodotto per tutte le aziende sanitarie della regione, aveva avviato a marzo le gare per la fornitura delle diverse tipologie di vaccino, cercando di arrivare a 470 mila dosi, con 100 mila in più rispetto al 2020, vista anche l'alta richiesta da parte di tutte le fasce d'età. Nei cinque lotti previsti è andato deserto il secondo, che prevedeva la fornitura di circa 195 mila dosi di tetravalente, con il rischio di non avere materialmente vaccini per arrivare alla copertura dell'immunità di gregge. Grazie però a un accordo con la regione Veneto, secondo un decreto del direttore generale Giuseppe Tonutti, arriveranno 180 mila dosi a 1,2 milioni di euro, consentendo quindi di raggiungere un quantitativo di poco inferiore a 470 mila dosi. I numeri sono comunque da confermare sulla base delle reali quantità di vaccini che arriveranno. Per quanto concerne gli altri lotti, il primo era relativo al vaccino anti-influenzale quadrivalente, con 192 mila dosi, assegnato Sequirus SRL con un'offerta da 2,88 milioni di euro. Assegnati sempre a Sequirus per 71 mila, 250 euro e Sanofi per 175 mila euro, i lotti che riguardano il vaccino influenzale antigene di superficie in siringa pre-riempita per 9.500 dosi, e il vaccino anti-influenzale quadrivalente ad alto dosaggio per 7 mila dosi in siringa pre-riempita. L'ultimo lotto assegnato ad AstraZeneca per un importo di 288 mila euro riguarda 16 mila dosi del vaccino anti-influenzale tetravalente spray per i soggetti che non possono fare l'iniezione. Grazie ai vaccini, alle mescherine e alla misura anti-covid nel 2019-2020, come certificano i dati ministeriali visibili con la linea rossa più spessa, l'influenza è rimasta sempre sotto la soglia dei 2 mila casi a settimana, senza mai registrare picchi. Scattano i controlli su tamponi e green pass in ingresso in Slovenia, code e rallentamenti a Fernetti, il valico principale, il seme arabugliese. La polizia d'oltre confine ha denunciato tre persone. Code da questa mattina presto in uscita dal confine di Stato e in ingresso in Slovenia nel territorio di Trieste. La polizia della Nuova Repubblica infatti ha dato avvia una serie di controlli sui green pass per chi transita anche diretto in Croazia. In attesa con disagi per rallentamenti sia mezzi pesanti che veicoli leggeri, di turisti ma anche di laboratori trasfrontalieri. Il monitoraggio si è concentrato in particolare nell'area di Fernetti, Sesana. Controlli pure al valico di frontiera di Dragonia tra Slovenia e Croazia, dove gli agenti della polizia hanno scoperto due falsi negativi alla prova del covid-19. Per due persone quindi è scattata la denuncia. Nel pomeriggio sempre la polizia d'oltre confine ha denunciato una terza persona perché trovata con un certificato verde contraffatto. Cento migranti sono stati rintracciati a Trieste questa mattina, a ridosso del confine dalla polizia di frontiera e dalla polizia di Stato. Una ventina, tutti i maggiorenni del Bangladesh, sono stati rintracciati all'alba, poi nell'area di Cormons colti al cara di Gradisca e due infine, un maggiorenne e un minore, sono stati individuati a Udine dai carabinieri. Incendio di un capanno agricolo nelle prime ore di oggi a Talmassons, allevarsi delle prime fiamme, i proprietari hanno chiamato il 112, con una pompa hanno contenuto il rogo. Il fuoco di Udine ha agito rapidamente limitando i danni. Finita in cenere, una parte della struttura che veniva utilizzata come officina con stoccaggio di attrezzi ed elettro utensili, salvi mezzi più grandi, tra cui alcuni trattori, nessuna persona rimasta ferita, invece il fuoco hanno lavorato fino alle 8 per la messa in sicurezza del sito e per lo smassamento del materiale bruciato. Paura la scorsa notte a Cervignano per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture lungo la statale 14 per causa del vaglio dei carabinieri di Villa Vicentina. Una Jeep Toyota si è scontrata con un'altra macchina, definita contro il Garret, ribaltata su un fianco in bilico. I due conducenti non sono rimasti feriti, ma è stato necessario l'intervento del gelofuoco di Cervignano per la messa in sicurezza delle auto della sede stradale. La statale è rimasta chiusa parzialmente al traffico per circa tre ore. Ed ora andiamo a Udine, continuano i lavori di sistemazione di Viale Venezia. Oggi la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per il secondo lotto che riguarda tutti gli interventi di messa in sicurezza delle aree adiacenti alla rotatoria in prossimità di Viale Firenze, di Piazzale, 26 luglio. Partiranno entro la fine dell'anno i lavori di sistemazione di Viale Venezia. La Giunta Comunale di Udine ha approvato il progetto definitivo e ora dovrà procedere al bando per la gara d'appalto. Questo secondo lotto praticamente si aggiunge al primo, la distanza poi dei lavori saranno di circa due mesi, due mesi e mezzo circa. Riguarda il primo lotto, ovviamente erano le due rotatorie con gli innesti connessi. Il secondo lotto, tutta la parte della segnaletica, le piazzette che vengono create, le aiuole con le alberature per dare molta importanza al verde, i collegamenti pedonali, soprattutto illuminati. L'illuminazione fa parte del progetto definitivo per dare maggiore sicurezza e soprattutto poi l'innesto con Piazzale 26 luglio. Sull'ardito adesio noi abbiamo incanalato una procedura che praticamente è un progetto definitivo approvato oggi, che si aggira sull'ordine dei 470 mila euro, ma riguarda non solo la copertura con materiale particolare, inoltre ci sarà anche tutto l'impianto di illuminazione per far sì che quel parco attualmente, che ha avuto un implemento di verde, non dimentichiamoci che l'avrà ancora, potrà ospitare anche 20. La Giunta ha anche fatto un ulteriore passo avanti per quanto riguarda il Biciplan, il piano urbano della mobilità ciclistica. Dopo le varie valutazioni previste per legge, ora il Comune procederà allo sviluppo della rete ciclabile, che consente di unire Udine e i Paesi con termini. L'importante è che nella fase esecutiva non si incontrino in tralci come quanto accaduto in via Cividale. Dovremmo riprendere e terminare entro la fine dell'anno sicuramente, anzi prima della fine dell'anno. È praticamente ultimato il nuovo parcheggio a pagamento di via Sabbadini nell'area dell'ex frigorifero di Udine. Il cantiere sarà consegnato con circa sei mesi di ritardo sul cronoprogramma iniziale. Udine a breve avrà a disposizione il nuovo parcheggio posto a lato di Piazzale Celle, via Sabbadini. Si tratta dell'area di sosta SSM realizzata dal Comune intorno all'ex frigorifero. Il parco a raso sarà attivo esclusivamente nei giorni feriali, dalle 730 alle 21, e metterà a disposizione dei cittadini ben 106 stalli blu, oltre a due posti auto riservati e disabili. L'inaugurazione presumibilmente avverrà a inizio settembre dopo l'installazione delle colonnine per il pagamento della sosta. L'iteralizzativo del parcheggio si è rivelato più complesso del previsto. La bonifica e l'analizzazione dell'intero piazzale hanno richiesto un esborso per le casse comunali di circa mezzo milione di euro. L'importo complessivo, a causa degli imprevisti, è passato così ai 380 mila euro iniziali, ai 472 mila euro finali. Tra le opere eseguite è anche la messa di sicurezza del perimetro dell'ex frigorifero. L'edificio, infatti, nei prossimi mesi dovrebbe finire al centro di una mega ristrutturazione da 10 milioni di euro, che porterà l'immobile a entrare nel circuito espositivo dell'antiguo Museo di Storia Naturale. Spostata solamente di un paio di metri, infine, la colonia Felina, che notoriamente vive e frequenta l'area da decenni, per raccogliere i micetti randagi, è stata collocata una piccola casetta posizionata all'ombra di alcuni alberi. Quattro moduli in acciaio destinati ad alloggiare parte degli impianti e dei macchinari per il trattamento del gas naturale di cui è fatto in Canada sono stati realizzati in 20 mesi dalla fiulana Cimolai. Le megastrutture hanno preso il mare dallo stabilimento di San Giorgio di Nogaro. La mastodontica è stata portata a termine dalla porderonese Cimolai, specializzata in strutture d'acciaio, che ha completato la costruzione di quattro moduli destinati ad alloggiare parte degli impianti e dei macchinari per il trattamento del gas naturale liquefatto del terminale di Kitmat nella regione British Columbia in Canada. Questo lavoro si inserisce nell'ambito di un grande progetto, finalizzato alla realizzazione e gestione di un nuovo terminal per l'estrazione, la liquefazione, lo stoccaggio e il caricamento di gas naturale. Il programma prevende l'iniziale esportazione di 6 tonnellate e mezza di gas naturale all'anno e la prima sfedizione di LNG dal terminal di Kitmat è prevista entro la prima metà del 2025. I quattro moduli, ciascuno dei quali misura circa 21 metri di larghezza, 66 d'altezza e 73 di lunghezza, per un peso complessivo di oltre 6.000 tonnellate, sono stati commissionati da Baccar Oaks per il consorzio LNG Canada, che vede la partecipazione di alcune delle principali aziende del settore oil and gas a livello mondiale. La fabbricazione dei quattro moduli ha richiesto il coinvolgimento di tutti gli stabilimenti di Cimolai in Friuli ed in particolare quello di San Giorgio di Nogaro, dove le strutture sono state assemblate, caricate e trasportate via mare verso il cantiere di Avenza a Carrara. Lì verrà completato l'allestimento dei moduli stessi prima della consegna e messa in servizio in Canada. La costruzione delle imponenti strutture è stata completata in meno di 20 mesi, malgrado le difficoltà legate alla pandemia. Cimolai, il cui quartiere generale è a Porcia, ha così portato a compimento con successo il suo quarto lavoro in questo settore. Salgono a quattro i candidati alla poltrona di sindaco per il comune di Pordenone. Alle elezioni del 3 e 4 ottobre si presenterà anche Vitto Claut, presidente regionale del Codacons, con una lista di ispirazione Novax. Ma il tempo per raccogliere le firme è poco. Spunta un quarto candidato nella corsa a sindaco per il comune di Pordenone. Dopo Alessandro Ciriani, primo cittadino uscente che tenta il bis, sostenuto dal centrodestra, Gianni Zanolin, che guida una coalizione sull'asse centrosinistra 5 Stelle, e Ana Ciriani, con la sua civica Amiamo Pordenone, si getta nel lagone politico anche Vitto Claut, già avvocato e oggi presidente regionale del Codacons, e lo fa con una lista di chiara ispirazione Novax contro il Green Pass, il cui obbligo vorrebbe fosse subito abolito. Il nome? Coalizione etica e valore umano. Claut, assieme a un pool di avvocati, inoltre sta coordinando attraverso il Codacons alcuni ricorsi altardi sanitari non vaccinati. Nato a Montereale Valcellina, ma pordenonese da sempre, Claut vuole proporre la sua alternativa, anche in modo provocatorio, come nel suo stile. Voleva provare l'assalto al municipio anche nel 2011, ma si ritirò in extremis. Una curiosità che lo riguarda e che ha fatto molto parlare di lui, riguarda il fatto che abbia scelto libernazione dopo la morte, primo italiano a farlo, affidandosi a un'organizzazione americana specializzata in crioconservazione. Ma ora la sua attenzione è tutta per la città e le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Il tempo però stringe, sarà una corsa contro l'orologio per raccogliere le firme e presentare la lista. Il tutto entro fine mese. Il parco del Cormore, torniamo a Udine, è da anni metà abituale di chi cerca un oasi di verde appena fuori dalla città, ma da quest'anno è frequentato anche dagli udinesi che non sono andati in vacanza e da turisti, per la maggior parte stranieri, che vi arrivano in bicicletta. Alle porte di Udine il parco del Cormore è sempre più meta di turisti. Quest'anno, oltre agli udinesi che lo scelgono per una passeggiata dietro l'angolo di casa, è molto gettonato dai cicloturisti. Vuole perché la gente sta bene all'aria aperta, purtroppo per via di questo Covid, e poi perché comunque c'è un sacco anche di turismo che vengono da noi, mangiano alla sera, a pranzo, vengono a bere il caffè, vengono a fare il giretto. Anche l'anno scorso c'erano comunque degli austriaci, tedeschi, però comunque anche quest'anno diversi, anche italiani. E per diversi udinesi che non sono andati in vacanza, il parco del Cormore costituisce un'alternativa. Trovare un bel parco ordinato, verde, fresco, ci sono delle belle passeggiate da fare, poi ci sono i giochi per i bimbi e quindi si sta bene, ecco, fuori dal traffico non si sentono rumori. Ho visto qualcuno che prende sole, i bambini che hanno i loro giochi, qualcuno che legge, e ognuno può fare quello che vuole tranquillamente, rilassandosi anche da solo, per cui lo vedo proprio come alternativa, ecco, diversamente da altri parchi giochi che sono più piccolini, eccetera. Questo è molto molto bello. Poi volendo si può anche pranzare, bere, fare tutto quello che si vuole. Lo vedo molto molto bello. Non credevo. Il cicloturismo si conferma come uno degli assi più interessanti e performanti per il turismo del Friuli Venezia Giulia. Sui treni regionali è stato registrato un incremento di viaggiatori in bicicleta del più 37% rispetto al 2020. La conferma è arrivata dal primo bilancio estivo stilato da Trenitalia. L'estate che volge al termine emette uno dei primi verdetti. Il Friuli Venezia Giulia è sempre più meta di cicloturisti. Da giugno il movimento dei turisti in bicicletta ha segnato sui treni regionali un incremento del più 37% rispetto al 2020. La percezione dell'andamento era più che palpabile da settimane. Ogni mattina, ad esempio, è possibile osservare Udine attraversata da centinaia di visitatori in sella. Coppie, piccoli gruppi o grandi comitive pedalano lungo l'Alpe Adria all'insegna della mobilità sostenibile, dell'aria aperta e della sana attività fisica. Se le prime conferme le avevamo già avute intervistando alcuni albergatori del capologo Friulano, ulteriori dimostrazioni del boom sono arrivate oggi dai numeri forniti da Trenitalia. Dal 13 giugno al 15 agosto in ben 13.000 hanno viaggiato con le proprie biciclette utilizzando il servizio di trasporto su rotaie. Il servizio Alpe Adria Line tra Trieste, Udine e Tarvisio è registrato da solo circa 8.000 presenze, ma ottimi risultati sono arrivati anche dal treno Bici delle Lagune lungo la linea Trieste Venezia e dal nuovo collegamento intermodale, treno più bus, denominato l'Ignano Link che connette la stazione di Latisana alla località balneare Friulana. Insomma, il binomio città d'arte e bicicletta sarà una delle chiavi su cui maggiormente puntare nel futuro prossimo venturo. A dirlo sono i numeri e le ricadute positive registrate sul territorio regionale e sull'ambiente. Ed ora andiamo a Povoletto che punta a diventare il polmone verde dell'Intelan Udinese e ne ha convinto il sindaco Giuliano Casteneto che con la sua amministrazione sta investendo molto su turismo e settore enologico e il rifacimento poi del ponte località Salt potenzierà anche il turismo ciclabile. Il ponte Centenario che collega le sponde del torrente Torre tra i comuni di Povoletto e di Udine e località Salt sarà sistemato per poter essere percorso in sicurezza a piedi e in bicicletta attivando un tracciato ciclabile che dovrà essere raccordato ai percorsi del capologo Friulano. In sede di concertazione un grosso contributo da parte dell'amministrazione regionale siamo insieme noi e il comune di Nimis il comune di Nimis appunto è capofila e ha ricevuto questo contributo sono 2.156.000 euro mi sembra verrà completamente rifatto il ponte stesso soprattutto su questo oltre a risolvere il problema della viabilità e della sicurezza ci sarà anche poi il discorso della pista ciclabile che viene giù sostanzialmente dal nord del Friuli quindi per quanto ci riguarda adesso il tratto Magnano-Tarcento poi ci sarà Tarcento-Nimis e quindi Nimis giù per via della Motta a Povoletto a Savorniano e quindi a Povoletto stiamo facendo dei grossi investimenti per quanto riguarda turismo per quanto riguarda il settore enologico, l'enogastronomia perché vogliamo far diventare un po' Povoletto il polmone verde dell'Interland udinese. A Friuli Dock, che comincerà a Udine il 9 settembre torneranno gli austriaci che con il loro stand occuperanno parte di via Aquileia a Piazzetta del Pozzo per partecipare alla Kermessa sarà necessario essere in possesso del Green Pass Friuli Dock allarga i suoi orizzonti con un ampliamento delle aree espositive e il ritorno di vecchie conoscenze Fra le novità quest'anno sarà il ritorno degli amici della Stire degli austriaci che verranno collocati in fondo via Aquileia poi ci sarà la conferma del ritorno di tutto il proloco del collinare in cima al castello di Udine e quindi anche questo è un altro motivo di vanto per questa manifestazione e abbiamo deciso come amministrazione accanto allo sconto iniziale che era già del 50% ricordo sulle tariffe per tutti coloro che parteciperanno Friuli Dock di concedere un ulteriore 10% di sconto sulle tariffe e quindi accanto a tutte le altre iniziative collaterali che metteremo in piedi per questa manifestazione contiamo che quest'anno l'edizione possa avere un successo soprattutto possa tornare adesso un'autentica vetrina promozionale dell'eccellenza della nostra regione ricordo che rimane l'obbligo del Green Pass che è la misura più importante e per cui tutti coloro che volranno visitare Friuli Dock dovranno avere il Green Pass e ci saranno dei controlli per garantire questo quindi però starà anche alla responsabilità poi dei singoli di sapere che c'è questo obbligo noi faremo una campagna di diffusione dell'informazione anche affiggeremo cartelli dappertutto ricordando a tutti che c'è un obbligo individuale di dotarsi del Green Pass e poi naturalmente cercheremo un dialogo col Comitato di Ordine Pubblico per valutare assieme quali siano le possibili misure per evitare ogni ipotesi di infrazione e per evitare gli assembramenti Tra poco nello spazio dedicato allo sport si parlerà delle ultime in casa udinese a tre giorni della sfida con il Venezia di basket con le parole di Alberto Martelossi in vista della nuova stagione dell'Apupo e di rally di un nuovo modo di vivere lo sport nelle colline carniche subito dopo la pubblicità Sport FWG grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli